Pratutto ho lasciato una parentesi per Marto Spartiello. Marto Spartiello si fa con un profondissimo taglio alla mano sinistra, nel modo più banale, urtando un lampadario o qualcosa del genere. Un lampadario? Con un lampadario uno si taglia? Questa è stata questa è stata questa la scena è stata questa è stata questa la scena buongiorno a tutti io me la vedo proprio questa mi sa tanto la parte la gag buongiorno a tutti questa è stata la gag è stata la gag ma la cosa che va molto più vicino alla realtà a parer mio io non ho la verità in tasca non mi piace neanche far finta di averla però a me sa tanto sa tanto di bravata ma di bravata quella vera perché poi ovviamente il Milan non fa trapelare niente come dice come si chiama io cioè non lo voglio neanche nominare perché veramente ogni volta che lo sento parlare mi si mi si mi si mi si gonfia qua la vena mi si gonfia e quindi siamo dobbiamo trovare anche un secondo portiere il Milan si sta muovendo per trovare per prendere scuffette e non sono d'accordo neanche su questo io non sono d'accordo neanche su questo Torriani abbiamo fatto giocare l'altro giorno contro il Manchester City è nostro perché doveva andare a prendere per due milioni scuffette che poi torna sportiello c'hai sportiello anche se si parla di tre mesi di stop per un profondo taglio provocato da un lampadario provocato da un lampadario uno sta fuori tre mesi cioè a me ieri per esempio mi stava cadendo una scatola di 30 kg l'ho presa con la spalla così diciamo che mi fa male la spalla mi fa male la spalla domani sono di nuovo al lavoro questo qua si fa un profondo taglio sta fuori si parla di tre mesi di stop adesso andate tranquilli che piano piano si vedrà anche un'operazione chirurgica guarda ci voglio proprio mettere di mezzo tutto e il Milan non fa trappelare niente tu mi devi dire per come si è fatto male sportiello tu me lo devi dire tu devi dirmelo devi dirmelo ho sentito pure oggi Longoni dire e no ma se non si sanno le cose poi dopo si manca di rispetto alla persona ma dimmi come si è fatto male sapere come si è fatto male sportiello esigo che io esigo sapere come si è fatto male sportiello esigo saperlo e adesso andiamo a comprare scuffetto va bene aggiungilo aggiungilo poi tornerà sportiello maignan scuffetto torriani laponava reveire come portieri sia abbiamo l'abbondanza come portieri abbiamo l'abbondanza detto ciò incredibile queste cose qua succedono veramente solo a mila succedono veramente solo a mila guardate il petto villoso mamma mia che brutto devo farmi anche la ceretta mai farsi la ceretta per me un uomo non se la deve mai fare poi vabbè virgolettato a parte virgole a parte martedì martedì 30 luglio paolo vici a milano sentendo il video proprio di questo qua che ce l'ho proprio di fronte che mi urta proprio il sistema nervoso pare sia arrivato stam e anche ieri vi dicevo non fatevi non fatevi prendere come si dice la mente dalla gente che è grossa perché dice stam questo con stam non c'entra niente neanche fisicamente stam era addirittura più piccolo secondo me di paulovic paulovic è una montagna ma proprio come giocatori come fisico non c'entrano niente paulovic è uno screener paulovic è sì qualcosa forse un po più elegante di screener ma con stam non c'entra niente non c'entra assolutamente niente levatevi adesso tutti quanti siccome lo dice uno siccome lo dice quell'altro e paulovic è il nuovo stam non è il nuovo stam non ci assomiglia nemmeno ve lo dico anche ve lo dico anche vi svelo questo segreto poi un discorso molto importante che anche lì non non mi trovo d'accordo gran parte della comunicazione che trovo su youtube del milan perché adesso vabbè stiamo facendo passare il fatto io mi mi arrendo mi arrendo secondo voi è scarso va bene va bene ne riparliamo a gennaio ne riparliamo a gennaio tra l'altro un giocatore che arriva così con tutti quanti che lo prendono per il culo sia di là che di qua secondo me non fa neanche tanto bene proprio al giocatore in sé viene qua il milan non penso che arrivi col 100 per cento della carica poi secondo me potrebbe anche essere il come si dice il pensiero inverso ovvero mia vado lì e dimostro che non sono un pacco che non sono un cesso ed è verso il royal andate tranquilli che è lo stesso discorso di fonseca fonseca vi piaceva voi all'inizio no adesso sono bastate due partite e tutti quanti fonseca si vede un gioco si vede la mentalità si vede la grinta dell'allenamento la stessa identica cosa farete con un emerson royal e ve lo dico anche qui oggi ve lo dico anche qui oggi a proposito di emerson royal dicevo proprio mi arrendo va bene io sarò in minoranza su emerson royal e su questo qua prendo atto prendo atto me lo tengo anche quelli grossi dicono ma perché spendere 15 18 milioni per emerson royal quando attacca difende peggio di calabria attacca peggio di sale makers a sto punto se proprio proprio non voglio far fare il titolare a calabria metto sale makers e qui mi arrabbio qui mi qui mi arrabbio veramente allora sale makers negli anni del milan ha giocato terzino ha giocato ala abbiamo sempre visto abbiamo sempre visto le difficoltà che ha nel difendere perché perché sale makers non è un terzino sale makers è uno che potrebbe giocare nel 3 5 dal 3 5 2 quinto di destra o al massimo ala l'abbiamo dato via perché l'anno scorso abbiamo comprato chukwez e pulisic e abbiamo dato via messias e sale makers sale makers è andato al bologna in prestito giusto avete mai visto fargli fare una volta l'anno scorso io non me lo ricordo così a memoria non me lo ricordo avete mai visto fare una partita sola su 38 giocate una partita sola a sale makers avete mai visto fare il terzino no quindi secondo me è meglio aggiungere un terzino come emerson cioè poi vabbè non stiamo parlando di alexander arnold non stiamo parlando di canselo stiamo parlando di emerson royal va bene dal punto di vista di terzino destro ve lo assicuro vi posso nel mio piccolo ve lo assicuro terzino destro emerson royal qua sale makers calabria come terzino destro poi sale makers mi sta convincendo ma come ala è un ala sale makers santo cristo è un ala è un ala non mi tengo sale makers cosa fate l'anno prossimo sale makers che va sentanto in avanti e dall'altra parte teo hernandez ma cosa avete nel cervello cosa ci avete nel cervello già facciamo fatica a difendere abbiamo i difensori che adesso aggiungiamo paulovic che perlomeno è più veloce di ciao abbiamo avuto l'anno scorso la problematica di avere i difensori lenti cioè che facevano fatica a recuperare qua perché si difendeva sulla linea del centro campo e voi gli aggiungete un teo hernandez che va ok teo hernandez fa quello che vuole e gli volete aggiungere sale makers dopo un anno che ha fatto soltanto l'ala a fare il terzino titolare del mina cioè veramente come voi nessuno come voi nessuno veramente guarda è una roba io veramente c'è un conto vedo quelli piccolini io mi definisco anche lo youtuber piccolino ci mancherebbe non è che dico sono quello grosso però mi vanto del fatto che di calcio internazionale ne guardo e ne seguo tanto ma proprio tanto tanto che proprio messi insieme molti youtuber secondo me me ne vanto di queste cose qua perché io non sono uno che si vanta però sul calcio sul calcio seguito sui giocatori sono un'enciclopedia mi posso definire un'enciclopedia ora mi spaventa il fatto che siano quelli grandi a dire una roba del genere eh no è scarso non lo compriamo mettiamo sale maker stessino destro ma cosa 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 vabbè vabbè tanto che sentiamo andiamo aspetta vediamo se riesco a farlo profondissimo il taglio profondissimo il taglio per sportive profondi c'è uno io mi immagino cosa fa questo qua allora ve l'avevo detto anche nel video post del manchester city avevo detto si è fatto male in albergo eh tutti quanti non ci credevano ora io mi immagino ne so cadi in albergo ti fai male ti spacchi un po' se è successo anche mi ricordo una volta casiglias mi pare abbia saltato una partita importante perché eh dentro l'albergo gli cadde una boccetta di profumo sul piede e si spaccò il metatars ma proprio una roba di tanti anni fa questa casiglias si che è casiglias immagino più o meno una roba del genere poi sento dire si è fatto male con un taglio profondo con un lampadario e starà fuori tre mesi il taglio è stra profondo io mi immagino che si sono lanciati i lampadari addosso questi qua o altrimenti c'è io pretendo di sapere come si è fatto male sportiello pretendo di saperlo se voi lo sapete fatemelo sapere qui sotto nei commenti ragazzi iscrivetevi al canale a parte gli scherzi lasciate un like fatemi sapere voi cosa ne pensate di salemakers che va bene mi ha convinto anche a me ma deve fare l'alternativa alle a o al massimo dell'ala destra salemakers no terzino per favore salemakers no terzino non volete emerson royal proponete qualche altro nome proponetelo voi qualche altro nome tanto la taglia degli acquisti del milano è soltanto 18 20 milioni quindi non si sfora da lì è inutile venite a parlare di canselo di carvajal di alexander aldo di walker di quella gente lì il milano le prende quella gente lì conoscete un difensore meglio di emerson royal sul mercato a 18 20 milioni diteglielo voi scrivetelo scrivetelo anche qui sotto ragazzi noi ci vediamo domani intanto ah io la chiudo così taglio profondo questo è stato il gioco così si è fatto male così si è fatto male sport ciao a tutti ragazzi